La strada provinciale 173 che collega Mistretta e Motta da Fermo è chiusa al transito per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. A intimare tale interdizione del traffico la direzione viabilità della città metropolitana di Messina con un'ordinanza a firma dell'ingegnere responsabile Rosario Bonanno. Il motivo dal quale scaturisce il provvedimento è legato al cedimento della volta di un tombino situato sotto il manto stradale e deputato allo smaltimento delle acque piovane al chilometro 5 più 100 nelle vicinanze di Motta da Fermo. Si tratta di una vera e propria voragine che gli utenti hanno anche segnalato nel tempo e che sembra allargarsi sempre di più facendo temere un cedimento totale di quel pezzo di manto stradale. Quindi un disagio ulteriore per i cittadini del territorio poiché tra i mezzi pesanti che transitano lungo la provinciale 173 vi sono soprattutto gli autobus di linea che vengono usati dai lavoratori e in maniera particolare dagli studenti che frequentano i licei di Mistretta. Infatti a causa di questa interdizione ci dicono che il bus parte da Motta da Fermo, passa da Pettineo e poi giunge a Mistretta dalla statale 117 da Santo Stefano di Camastra. Penalizzati anche mezzi pesanti di proprietà di varie ditte che lavorano alla realizzazione della costruenda strada statale 117 e che percorrevano la strada provinciale 173 per andare a rifornirsi nella cava di materiali per costruzione edilizia e stradali di Pettineo. Adesso l'utenza attende i lavori di riparazione di questo cedimento sperando che i tempi burocratici non siano al solito troppo lunghi per mettere in sesto un'arteria che si presenta in pessime condizioni con manto stradale dissestato, piccoli smottamenti e vegetazione che invade la carreggiata disturbando la marcia degli automobilisti. Pettineo Pettineo